Nodo ancorotto, ideale per il collegamento della vostra cima al vostro anello dell'ancora. Prendiamo la vostra cima, la facciamo passare due volte all'interno dell'anello, quindi senza sovrappurre le corde, passando davanti al dormiente, entriamo, portiamo il nodo a contrasto, stringendolo, inseriamo il nodo e lo portiamo a contrasto sul moschettone. Abbiamo così realizzato il nodo ancorotto.